Ciao a tutti! Come funziona l'inconscio? Una persona che è perfettamente conscia, ovvero che è perfettamente allineata con se stessa, che è quindi completamente autentica e una versione pura della sua essenza, non ha nessuna parte inconscia e la maggior parte delle persone quando nascono sono in questo stato, in uno stato integro e puro. Man mano che però facciamo delle esperienze traumatiche durante la nostra infanzia, il nostro inconscio inizia a formarsi. Come? Un'esperienza traumatica, per definizione, è un'esperienza che non può essere processata nella nostra narrativa conscia attuale, nella nostra esperienza conscia. Non può essere elaborata e non può essere processata. Allora la persona divide la sua coscienza. La coscienza, secondo la legge della conservazione della coscienza, non può essere creata dal nulla, né annientata nel nulla. La coscienza si può solamente dividere. Si divide in due parti colari opposte. In una parte viene registrata e messa via l'esperienza traumatica, mentre nell'altra invece, l'altra parte della coscienza invece continua a vivere come se l'esperienza traumatica non fosse mai accaduta. E questo permette al bambino di continuare a vivere nonostante le esperienze traumatiche che altrimenti sarebbero estremamente dannose per la sua psiche, se non addirittura fatali. Questa divisione è quindi un meccanismo di difesa, è un meccanismo di sopravvivenza. Però cosa succede alla coscienza della persona quando arriva in età adulta, dopo aver avuto una infanzia traumatica? Innanzitutto, come ho spiegato in altri miei video, la parte inconscia della persona non è sparita, è sempre lì. E siccome è inconscia, innanzitutto la persona non la vede, non si rende neanche conto di averla. E in secondo luogo questa parte della persona agirà in modi inconsci, in modi manipolatori, in modi indiretti. Spesso portandola ad esperienze di vita che la persona non riesce a capire o a spiegarsi come mai si ritrova in queste esperienze. E spesso esperienze che sono molto dannose. Nel frattempo invece la parte conscia è la parte con cui la persona si identifica e con cui vive la sua vita. Diciamo è quella che la persona considera la sua identità. Ma ovviamente siccome la sua parte conscia non è tutto, tutto ciò che fa parte di quella persona, questa parte conscia avrà un controllo molto limitato sulla vita della persona. E quindi in molti casi, pur anche se la persona consciamente crede di essere una certa persona, crede di volere certe cose, di desiderare certe cose, non saranno le cose che otterrà. Perché? Perché il suo inconscio vuole diversamente. Facciamo un piccolo esempio per capire come avviene questa frattumazione. Diciamo che Mario è un bambino normale che cresce in una famiglia dove i genitori per loro problemi, quindi per le loro repressioni inconsce, non accettano, non tollerano la rabbia. E un giorno Mario si arrabbia per dei motivi totalmente validi. Si trova in una situazione che gli causa rabbia e quindi sente la rabbia e esprime questa rabbia in maniera del tutto naturale. Ma i suoi genitori non accettano la sua rabbia e quindi quando lui esprime rabbia lo rigettano, lo respingono, lo vergognano, magari lo puniscono, gli tolgono amore. Allora cosa succede? Siccome Mario è un bambino e quindi non ha le capacità cognitive per capire ah i miei genitori sono inconsci e purtroppo non si rendono conto che stanno proiettando su di me il loro problema, quindi è meglio che esprimo la mia rabbia con qualcuno più conscio che sia in grado di darmi spazio emotivo. No, Mario è soltanto un bambino e per i bambini i genitori sono tutto, sono il mondo, sono il dio e soprattutto sono la loro sopravvivenza. Per un bambino l'amore del genitore è sopravvivenza e quindi per sopravvivere l'amore del genitore deve far parte della narrativa del bambino, della sua identità. Perché i bambini della specie umana sono estremamente dipendenti con la loro vita dagli adulti intorno a loro per parecchi anni e quindi per il bambino l'amore del genitore è una cosa vitale che deve far parte della sua narrativa. Quindi cosa succede? Quindi quando il genitore del bambino lo rigetta ovviamente questo va contro la sua narrativa che i genitori lo amano e quindi questo distrugge la base di vita di quel bambino, la sua narrativa più importante, cioè che il genitore lo ama. E allora il bambino come fa ad integrare queste due contrastanti realtà, cioè l'idea che il genitore lo ama, su cui basa la sua vita e invece la dimostrazione che il genitore non gli vuole bene. In quel momento lo sta rigettando, lo sta punendo, lo sta rifiutando. Quando si trova in questa situazione il bambino nella maggior parte delle volte cosa fa? Per mantenere l'amore del genitore, quindi per mantenere intatta l'idea che il genitore lo ama, decide di andare contro se stesso. In pratica è come se formasse una coalizione con il genitore contro se stesso. Per rimanere legato all'amore del genitore rifiuta se stesso. Questo meccanismo si chiama vergogna. La vergogna, che spiegherò in un altro video, è il meccanismo con il quale ci separiamo da noi stessi. In particolare in questo caso Mario rifiuterà la parte che il genitore non vuole, cioè la sua rabbia. Quindi Mario separerà la sua coscienza, perché come si fa a rifiutare noi stessi se siamo una persona sola, giusto? Per poterci rifiutare dobbiamo diventare due persone. Ed esattamente ciò che succede dentro di noi, diventiamo due persone separate. In una parte della sua coscienza Mario metterà la sua rabbia e questa è la parte che verrà rigettata. Sarà la parte capace di esprimere la rabbia. Nell'altra parte Mario metterà l'esatto opposto e questa sarà la parte che sarà amata. Cioè questa parte sarà del tutto incapace di arrabbiarsi, sarà completamente priva di rabbia. Quindi Mario ha diviso la sua parte della coscienza, diciamo chiamiamo questa parte la sua naturale e sana capacità di arrabbiarsi, la divisa in due. Una dove mette tutta l'espressione della rabbia e l'altra dove non ha nessuna espressione di rabbia, dove non ha nessuna capacità di arrabbiarsi. Questa parte la rigetterà per qualizzarsi col genitore e questa parte sarà la parte con cui si identifica per rimanere legato al genitore. In questo modo Mario può continuare ad avere l'amore del genitore, l'amore condizionale ovviamente del genitore e quindi ad avere un'infanzia tollerabile. Ma man mano che Mario cresce e diventa adulto, lui si convincerà di essere una persona molto pacifica, molto tranquilla che non si arrabbia mai. Ma in realtà non sarà per nulla così. Infatti ogni volta che dividiamo la nostra coscienza in due parti, entrambe le parti diventano malsane e quindi la sua capacità di arrabbiarsi, che adesso che lui reprime rimane quindi repressa ed inconscia, cosa succede a questa parte? Innanzitutto questa parte non potrà esprimersi liberamente e quindi avrà rabbia cronica e la rabbia cronica è molto dannosa. Quindi una parte di Mario sarà costantemente arrabbiata, avrà costantemente l'emozione della rabbia e questo ovviamente avrà un effetto sul suo organismo, sulla sua psiche che sarà molto dannoso. Ad esempio non so se vedete quelle persone che quando sorridono sorridono così. Noi da fuori vediamo queste parti soppresse delle persone, vediamo le emozioni che sono soppresse e così come questa emozione ha un effetto sul suo organismo, ha anche un effetto sul suo corpo eccetera perché le emozioni di fatto cambiano lo stato fisico di una persona. Nel caso della rabbia ad esempio aumenterà la temperatura, rende la persona molto focalizzata, produce ormoni dello stress. Quindi una parte di Mario sta facendo questo tutto il tempo. L'altra parte, quella conscia con cui si è identificato, siccome non può sentire nessuna rabbia, cosa fa? Tollera tutta una serie di situazioni nella vita di Mario che sono intollerabili. Sono tutte situazioni che la rabbia dovrebbe fermare, dovrebbe dire di no a queste situazioni, ma siccome questa parte di Mario non ha rabbia, non lo fa. E quindi Mario si ritrova in tutta una serie di situazioni molto intollerabili, molto sbagliate per noi. Vediamo che quindi entrambe queste due parti, sia quella con cui si identifica, sia quella repressa, sono entrambe dannose. È molto importante capire questo perché noi spesso crediamo che la parte con cui ci siamo identificati sia sana. Non è così per nulla, anche questa è dannosa, sia quella repressa sia quella con cui ci siamo identificati. Il caso del narcisismo e della codipendenza è forse uno degli esempi più interessanti di questa divisione della coscienza. Veramente un caso molto particolare. Infatti quello che le persone che hanno questi disturbi dividono è la loro capacità di amare. E quindi è una divisione estremamente complessa perché la capacità di amare ricopre tantissime funzioni e tantissimi aspetti di una persona. Quindi è una divisione estremamente complessa, quella che avviene nei codipendenti e nei narcisisti. Cosa succede in questa persona? Allora prendiamo la capacità di amare. Quando integra una persona sa amare gli altri e se stessa in maniera sana. Non c'è differenza tra l'amore per se stessa e l'amore per gli altri perché queste due parti sono unite e quindi non c'è differenza. La persona ama se stessa come ama gli altri e viceversa. Non c'è differenza tra le due cose. Ma in un codipendente e in un narcisista questa capacità di amare viene divisa. Da una parte abbiamo la capacità di amare gli altri, dall'altra parte la capacità di amare se stessi. Vediamo già come questa divisione sia malsana perché chiaramente non è possibile amare gli altri senza amare se stessi. Quindi entrambi questi aspetti vivono in una visione illusoria dell'amore. Hanno un amore tossico. Quindi questa è la prima cosa da notare, che nessuno dei due sa amare. Entrambi si sono divisi dalla vera essenza dell'amore e quindi entrambi amano condizionatamente in modo limitato. Ora il narcisista si identifica con la sua capacità di amare se stesso e reprime la sua capacità di amare gli altri. Invece il codipendente fa l'opposto. Si identifica con la sua capacità di amare gli altri e reprime la sua capacità di amare se stesso. E vediamo cosa succede con questa divisione. Nel narcisista la persona narcisistica agisce identificandosi solo con l'amore proprio. Quindi si convince che tutto ciò che deve fare è arraffare per dare a se stesso perché ha soppresso la sua capacità di amare gli altri e siccome la repressa questa capacità vuol dire che la rifiuta, la rigetta e non la vede. Soprattutto non la vede. Questa invece è una capacità che vede perfettamente. Per questo quando molte persone mi chiedono ma il narcisista si rende conto di quello che fa. Certo! Perché è identificato con questa parte quindi la vede perfettamente. Vede perfettamente come sfrutta gli altri ed è convinto che questo sia il modo giusto di agire perché ha creato questa divisione per sopravvivenza. Il codipendente fa l'opposto. Quindi il codipendente si è identificato col suo amore verso gli altri e quindi questa è una cosa che fa consciamente. Quindi dà tantissimo agli altri, si sacrifica per gli altri, vive per gli altri eccetera e ha soppresso la sua capacità di amare se stesso. E quindi ha soppresso questa capacità perché la rigetta, la rifiuta, non la vuole e non la vede. E questo è il punto cruciale. Quindi il codipendente, così come il narcisista è conscio di essere narcisista, il codipendente è conscio di essere codipendente. È conscio del fatto che dà troppo agli altri, che si sacrifica per gli altri eccetera. Quello di cui il codipendente non è conscio è questo aspetto qui. Ed è per questo che, come ho spiegato in un altro mio video intitolato il narcisista è il vero codipendente. Il narcisista non vede la sua codipendenza che ha represso e anzi quando la vede negli altri la rigetta, la rifiuta proprio come fa dentro se stesso e proietta invece il suo narcisismo sugli altri. Quindi è convinto che tutti siano narcisisti come lui. Il codipendente stessa roba. Rifiuta il suo narcisismo, quindi lo rifiuta negli altri. Quando vede persone narcisistiche le rifiuta, le rigetta proprio come fa col suo narcisismo e invece proietta la sua codipendenza sugli altri. Quindi è convinto che tutti siano codipendenti come lui. Ma la cosa più interessante di tutte è vedere come agiscono gli aspetti inconsci di entrambi, cioè come agisce la codipendenza nascosta del narcisista e il narcisismo nascosto del codipendente. Come agisce la codipendenza nascosta del narcisista l'ho spiegato appunto in quel video dove ho spiegato che il narcisista è estremamente dipendente dagli altri e anzi dà un sacco di love bombing alle sue prede, alle sue persone che aggancia per creare una forte dipendenza con loro e questa è la sua codipendenza nascosta. Il codipendente invece, nel codipendente il suo narcisismo nascosto si manifesta nel fatto che tutto ciò che dà agli altri, quindi tutti i sacrifici che fa per gli altri, tutti i grandi gesti di altruismo che fa, li fa sempre con uno scopo, cioè quello di essere amato da quelle persone. Non lo fa per il puro piacere di dare come farebbe una persona che ama in modo sano, lo fa per cercare di essere amato da quelle persone, per cercare di essere contraccambiato. Vediamo che quindi entrambi vivono con un'idea di amore malata, un'idea di amore che è condizionale, che non è vero amore, sia il narcisista sia il codipendente, però lo fanno in modo opposto, in modo polare opposto, ed è anche per questo che i due poi si attraggono. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una bellissima giornata. Ciao ciao!